E oggi, in prima della merenda, la galassia sarà nostra! Ehi tu, ti ho detto che non si usa internet al lavoro! Mi scusi signore, ero su Don Bosco Land. Su quel sitaccio? Gliel'ho detto io signore, mi scriveva il workshop. A che? Penso di giovani signore. Ma stiamo scherzando? Spiegazioni! È una festa signore, quest'anno c'è anche il rettor maggiore. E il workshop? Se ne parla molto tra la ciurma, io faccio stage in action. C'è qualcun altro che si iscritte ai workshop durante il lavoro? Viva signore! Ma in questa nave non c'è più disciplina. Allora il 6 marzo andremo a master. Signore, è oggi il 6 marzo. Come oggi è il 6 marzo? Non si preoccupi, c'è il passante, dovremo farcela. Ok, ma dovremo andare molto veloce. Sì signore. Forza, svegliamoci! Prepararsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Nel suo compleanno useremo la velocità e gino. La velocità e gino? Ma non è umanamente concepibile. Ci sono le pattuglie spaziali. E qual è il problema? Ha paura? Colonnello? Va bene. Prepararsi alla velocità e gino. Destinazione terra. Allacciare le cinture di sicurezza. Controllare le iscrizioni. Ritirare i cartellini dei workshop. Le auguro a tutti. E a me si metta al suo posto. Signore, non allacciare la cintura! Non c'è tempo, ci rubano i posti. Velocità e gino. Via! 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 Porse potevamo anche andare con calma. Via! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fermate tutto Ho dimenticato a casa il foglio della privacy Stop Ma Emma Ecco qua Permetta che l'aiuti signore Signore sta bene? Certo Il foglio della privacy? Non si preoccupi Mi sono accorto di averlo in tasca io Bene Grazie di avermi avvisato per tempo Prego signore Prendetemi sto per cadere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti